Ecco qua, oggi è il 20 novembre 2015, abbiamo qui l'ennesimo gruppo, già tanti gruppi sono venuti, sono andati. Grazie a Dio, questo è già il quarto gruppo che è all'ascolto della parola. Abbiamo letto di nuovo, adesso dal Nuovo Testamento, dagli Atti degli Apostoli, riguardo a Gamaliele, un uomo che ha detto una cosa positiva ma è anche stato negativo perché ha detto aspettiamo, attendiamo i fatti, vediamo come si muovono i fatti. Sapete cosa è successo a Gamaliele? Non si è più sentito parlare di lui nella storia. Dio non vuole delle persone con un cuore freddo, un cuore tiepido, sarà vomitato. Tu non sei né tiepido, non sei né caldo né freddo, ma sei tiepido, sarai vomitato dalla bocca. Dio vuole persone con sentimenti forti, tu devi avere un sentimento forte, un sentimento o di odio o di amore, anche se ha un sentimento di odio verso la parola. Dio lo può anche tramutare come ha fatto con Paolo. Paolo era uno che aveva un sentimento molto forte contro i cristiani e Dio lo ha tramutato e diventato un grandissimo apostolo che ha scritto due terzi del Nuovo Testamento. Grazie a Dio. Adesso vediamo se ci sono delle persone che hanno delle domande. Quindi questo quarto gruppo che si accinge a prendere la lista lavoro, non c'è lista lavoro senza la preghiera prima. E grazie a Dio.